Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Gemma Galgani, figura storica e amata del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha recentemente condiviso un momento di profondo dolore sui social network. La dama, nota per la sua partecipazione emotiva e le sue storie d'amore nel programma, ha scritto un messaggio toccante in memoria di una persona cara scomparsa. Nel suo post, Gemma esprime il suo dolore con parole commoventi, hanno ripreso, aggiungi un posto a tavola. Non posso credere che il tuo posto non ci sia più. Stai danzando tra gli angeli, sempre nel mio cuore. Queste parole rivelano il legame profondo e il dolore che Gemma sta vivendo, suscitando grande empatia tra i suoi seguaci. La Galgani, che ha sempre catturato l'interesse del pubblico di Canale 5, è stata al centro dell'attenzione soprattutto per la sua relazione con Giorgio Manetti nel 2015. Nonostante la fine di quella storia, Gemma ha continuato a essere un pilastro del programma, rifiutando le voci di un suo addio estivo a uomini e donne, e confermando il suo impegno nello show. La sincerità e l'autenticità con cui Gemma condivide le sue emozioni hanno sempre toccato il cuore dei telespettatori. Il suo recente messaggio di lutto non fa eccezione, mostrando la sua capacità di condividere apertamente i suoi sentimenti. E voi, cosa ne pensate di Gemma, riuscirà a trovare il suo amore da favola come spera da tanti anni? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore